Ha destato molta curiosità questa mattina la presenza di due automobili della polizia nei pressi del comune di Diamante, un posto di blocco effettuato per più di due ore con diversi controlli alle autovetture nel cuore del paese. Sicuramente la visita di qualche settimana fa con il recupero di alcuni atti dagli uffici comunali e anche il caso dell'atto intimidatorio nei confronti del sindaco Gaetano Sollazzo hanno contribuito a creare un clima di apprezzione nella cittadinanza. Da quanto si è appreso, la polizia sta effettuando una serie di controlli a tappeto da Tortora da Mantea per monitorare il territorio. D'estate la costa tirrenica diventa meta di centinaia di migliaia di turisti e non sempre tutti con la fedina penale pulita. Gli episodi di criminalità più o meno organizzate delle stati precedenti, si vede il caso di Praia a Mare dello scorso agosto, finito su tutte le testate nazionali a poche settimane dall'operazione Plinus Le denunce a mezzo stampa non troppo lontane nel tempo, che dipingevano l'alto tirreno Cosentino come meta preferita dai criminali della mafia campana, le tentate truffe scoperte nei giorni scorsi dai carabinieri, sono tutti elementi da tenere sotto controllo e il dispiegamento di forze visto in giro già ieri tra Belvedere e Cetlare, oggi a Diamante, Scalea e Praia, fanno pensare che su questa fetta di Calabria l'attenzione delle forze dell'ordine è crescente. Ci sono poi altre ipotesi che parlano di un controllo serrato non solo sotto il profilo della sicurezza pubblica, ma anche per quel che riguarda gli interessi della criminalità organizzata attraverso ditte ad essa riconducibili sugli appalti gestiti dalle pubbliche amministrazioni. A Diamante, intanto, insieme alle pattuglie di ordinanza, era presente un'altra auto dalla quale due agenti in borghese sono scesi poco dopo mezzogiorno per recarsi all'interno del municipio, l'uscita un'ora dopo circa, questa volta senza la grossa amore di documenti come fu qualche settimana fa. Grazie.